Buonasera Colonnello! Buonasera, buonasera a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando! Bene, io so che è un grande affezionato di Fano e del suo carnevale, non a caso, non questo weekend, ma il prossimo ancora sarà insieme a noi per il secondo corso mascherato. Ma una domanda è duopo in questo caso, questo weekend che tempo farà su Fano naturalmente? Proprio una domanda a caso, diciamo che tutto sommato il tempo sarà buono e in arrivo ha un'alta pressione, quindi quando c'è l'alta pressione il tempo rimane stabile, l'unica cosa è un po' di nuvolosità ma nulla di particolare. Al momento non sono previste piogge, quindi il carnevale è assicurato. Bene, grazie Colonnello, nel qual caso dovesse piovere a Fano piove comunque un dolciume di quelli prelibati, va comunque bene? Una pioggia di cioccolata. Esatto, allora la aspettiamo qui per il secondo corso mascherato. D'accordo, ci vediamo a fine mese. Grazie. Con piacere. Ciao a tutti. Ciao, ciao.